Oh, è ancora vivo! Sai che cosa ci rende ricchi e potenti? Una paura e un bisogno. Siete schiavi, schiavi di più di manca. Questa cosa fa finire come dico. Voi vi chiedete dei pari eterni. Pensate di governare il sistema. Invece il sistema non governa più. Non posso proprio accettare consigli da gente come voi. Il nostro partito è sempre stato in prima linea contro la Camurra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.